Come è noto, nel contesto delle politiche ambientali europee di cui sentiamo notizie ogni giorno, l'idrogeno è il più significativo dei vettori energetici sostenibili e sarà uno dei fattori abilitanti per la presenza delle tecnologie a combustione in un'economia decarbonizzata. I fabbricanti di apparecchi a gas, in tal term compresa, hanno già fatto molto lavoro su questo fronte e il mercato può oggi contare su un'offerta che comprende apparecchi in grado di lavorare con miscele di idrogeno e gas naturale di vario grado, ma con particolare attenzione per ora su percentuali fino al 20% di idrogeno. Era comunque necessario raccogliere sufficienti informazioni per poter affermare che una percentuale in volume del 20% di idrogeno non ponesse problemi significativi anche agli apparecchi messi sul mercato negli anni passati, cioè quelli soggetti alla prima direttiva GAD sugli apparecchi a gas, cioè la 90396CE. Negli anni scorsi, grazie alle prove di laboratorio coordinate d'assotermica svolte nell'ambito dei lavori del gruppo Green Gas, è stato possibile confermare la sicurezza di queste applicazioni. Il protocollo di prova definito nell'ambito del gruppo Green Gas di assotermica ci ha quindi permesso di sviluppare in Italia la prima specifica tecnica dedicata all'uso di blender tra idrogeno e gas naturale, la UNIT-S11854. Questa specifica tecnica è oggi riferimento in materia, in attesa che la N15502, che è la norma di riferimento per chi realizza apparecchi a gas, sia integrata a livello CEN con le miscele tra idrogeno e gas naturale. Grazie a questo lavoro oggi, la mia azienda ha già certificato diverse caldaie hydrogen ready.